ciao a tutti oggi prepareremo una ricetta davvero semplicissima inizio ho iniziato tagliando a dadini il sedano la carota la cipolla e l'aglio adesso mettiamo tutto in padella a rosolare ho messo in padella il trito di carota sedano cipolla e aglio adesso lascio un po soffriggere dopodiché aggiungerò i filetti di merluzzo ecco qui pronto l'olio abbiamo lasciato soffriggere un po le verdurine aggiungiamo i filetti di merluzzo vado ad aggiungere un boccino d'acqua ho sistemato di sale adesso vado a coprire lascerò cuocere per 10 minuti a parte ho spremuto due limoni adesso andrò ad aggiungere il succo di limone ai filetti di merluzzo aggiungo poi un cucchiaio di amido di mais abbiamo aggiunto un cucchiaio di amido di mais per addinzare un po il sughetto adesso vado a coprire ancora e lascio cuocere per altri dieci minuti eccoci qua a fine cottura ho aggiunto un po di scorzetta di limone e infine una spolverata di prezzemolo fresco tritato ed eccoli qua i miei filetti di merluzzo al limone e verdurine sono pronti per essere gustati semplici facili e davvero velocissimi vi consiglio di provarli sono davvero molto molto gustosi e niente ragazzi spero che questa ricetta vi sia piaciuta se provate a farlo in questo modo scrivetemi tutto nei commentini oppure taggatemi in instagram con le vostre foto io vi mando un bacio ci vediamo alla prossima ciao 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 ciao